Il 19 gennaio si sono uniti a Bologna esponenti di regioni, enti locali, agenzie di sviluppo e gestori di aree produttive per discutere delle politiche di sviluppo delle aree produttive ecologicamente attrezzate in Italia. Durante i lavori sono state analizzate le analogie e le differenze tra le norme di tre regioni, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana, che hanno legiferato in materia di aree ecologicamente attrezzate, sotto il profilo della pianificazione urbanistica e territoriale, della promozione delle tecnologie ambientali e delle modalità di riconoscimento della qualifica di APEA. Da questi spunti sono emerse numerose riflessioni che hanno portato le regioni presenti a formulare considerazioni condivise. L'importanza di un vocabolario comune e della definizione di criteri comuni per le APEA che siano condivisi a livello nazionale e che agevolino la comparabilità tra le diverse regioni. L'opportunità di costruire strumenti in grado di individuare in maniera chiara e univoca le aree ecologicamente attrezzate presenti sul territorio nazionale, a disposizione dei cittadini e degli operatori economici. In quest'ottica si è pensato ad un registro delle APEA. Le agevolazioni per le imprese insediate nelle aree ecologicamente attrezzate rappresentano un elemento strategico, perciò occorre definire semplificazioni che portino allo snellimento delle procedure amministrative, come le autorizzazioni in materia ambientale. Le tecnologie ambientali d'area rappresentano una peculiarità delle aree ecologicamente attrezzate e gli enti locali dovrebbero impegnarsi per la loro diffusione nei territori attraverso politiche di sostegno e di sensibilizzazione. Infine appare evidente la necessità di un dialogo e di un confronto tra le regioni che propongono la costituzione di un tavolo permanente dedicato a questo tema. Nelle prossime settimane le regioni si impegneranno nella stesura di un documento programmatico per l'avvio di attività mirate a sviluppare le riflessioni condivise, una sorta di manifesto nei confronti dei possibili interlocutori sia locali che nazionali.